I fuori classe sono fuori dal tempo, è sempre uno spettacolo vedere all'opera Mirka Francia. A 43 anni la stella cubano-perugina è tornata in campo in B1 tra le fila della 3M Pallavolo Perugia, trascinandola al primo successo stagionale contro la Blu Quarrata. Continua a brillare, la stella ex Sirio continua a stupire. Mirka aveva sposato in estate il progetto del sodalizio del presidente Mastroforti con una squadra giovane neopromossa dalla B2, rimasta sotto la sapiente guida di coach Marangi. Il ruolo inizialmente era quello di collaboratore tecnico, il richiamo del campo però è stato forte e vincente. Sì, è stata una bellissima partita, abbiamo giocato tutte insieme, soprattutto le ragazze più giovani hanno preso sicurezza. Io sono in contorno in questa squadra, quindi sono ben contenta di essere tornata a giocare e quindi tutto il mio contributo e tutto quello che posso dare sulla squadra lo darò con tutta la mia forza e con tutta la mia convinzione. Quindi spero che questo sia, come dici te, un inizio soltanto, perché la 3M c'è, incomincia il campionato. Con Francia la formazione perugina ha schiacciato 3-0 le avversarie tra le mura amiche del Capitini. L'atleta cubana ha messo a terra ben 19 palloni, top scorer del match e senza dubbio anche MVP. La presenza di Mirka sicuramente dà molto fastidio agli avversari perché ovviamente devi controllare un giocatore sicuramente importante e di categoria nettamente superiore, quindi anche il discorso di muro per gli avversari diventa un pochino più complicato. Però anche le altre ragazze stanno mettendo in campo anche in allenamento cose migliori rispetto all'inizio, quindi è tutto un insieme che funziona adesso.